Hai un'agenzia immobiliare? Vuoi portare i tuoi immobili e il tuo brand in tv? Con soli 100 euro al mese diventerai Partner Point Case in TV. Compreso nel canone avrai Realizzazione di un video con drone e operatore professionale per tv e social, compresa la messa in onda su emittenti regionali. Realizzazione di reel e post per i social, realizzazione di brochure dedicate ad ogni immobile, Inserimento gratuito dei tuoi immobili sul portale immobiliare www.caseintv.it e sul portale immobiliare www.italydreamhouse.it specializzato sul mercato estero. Inserimento gratuito dei tuoi immobili nella rivista cartacea e digitale. Con un clic i tuoi immobili su social, radio e tv.